Sì, noi presenteremo fra non molto anche il logo e il nuovo portale turistico, con costanza in questi sei anni abbiamo messo parecchie risorse per mettere in maggior sicurezza la viabilità, per sistemare meglio le strade, per evitare che ci siano incidenti e per abbellire anche il territorio. Insomma, penso alla zona di Coldelce che è bellissima, abbiamo fatto già alcuni tratti importanti di asfaltatura, ieri mattino ho parlato anche con il sindaco di Urbino che anche loro entro l'estate dovrebbero fare l'asfaltatura oppure via Brasco dove ci stanno decine di famiglie e anche e soprattutto nelle zone più centrali, penso a Montecchio, penso a Bottega in via della Libertà, insomma 600 mila euro di ulteriori asfalti. Con cadenza annuale, 400-500 mila euro all'anno, credo che siamo una delle poche città che non dico ha finito di asfaltare quasi tutte le strade, penso a quella bellissima paesaggistica che va da Montefabri al museo della messageria a Pontevecchio. Insomma, ecco, stiamo guardando poi con l'assessore ai lavori pubblici tutti i tratti più ammalorati, dandoci anche dei criteri perché si fanno quelli che hanno più necessità negli anni, le aree che vanno ai cimiteri. Insomma, ecco, una sistemazione che è una sistemazione, diciamo, di sicurezza ma anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, insomma, che consente di avere, penso, a quelli che vanno in bicicletta, ai cicloturisti, a tutti quelli che vengono qua e che si complementano, insomma, perché abbiamo fatto, stiamo facendo un buon lavoro. Ecco, penso che quando vengono a respirare l'aria buona nelle colline di Sant'Angelo, di Colbordolo, di Montefabri, tutta quell'area che va verso Pontevecchio, insomma, vanno con sicurezza perché come si vede, vedevo le immagini di Roma, le buche producono anche danni e anche molto pericolosi. Qui da noi, non dico che non ci sarà più manco una buca, ma quasi. Un investimento importante, come ha detto lei, da parte delle Comune. Quando inizieranno i primi lavori? Ma intanto ci vogliono anche le condizioni climatiche. Noi a breve approveremo il progetto, diciamo, esecutivo e poi l'appalto. Quindi prima della stagione estiva, prima dell'estate, saranno finiti tutti i lavori.